Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E lì la prima cosa che si dice è che c'è un'eterogeneità complessa, non esiste un modello, le funzioni che sono attribuite a queste asserite autorità indipendenti sono diverse, alcune anche miste. Garanzia, regolazione, vigilanza e poteri misti. Il modello della regolazione, che è quello di cui appunto volevo parlare più da vicino, visto che è quello che ci interessa di più, è sintetizzato da questa legge generale, che è la legge 481 del 95, che è una legge che ha finalità che merita velocemente riprendere e che dopo aver declinato queste finalità istituisce delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. La rera di cui abbiamo in parte già parlato è quella che ha competenze più estese, senza dubbio. Direi che nel panorama europeo esistono, se non nessuna, poche, che io sappia, autorità che assommano competenze così estese sia dal punto di vista della tipologia sia dal punto di vista della qualificazione dei servizi che devono regolare. Poi c'è l'autorità di regolazione dei trasporti, ma ci sono anche altre autorità che hanno competenze di regolazione, quella di cui mi sto anche occupando parzialmente adesso, che ha dei poteri enormi perché incide sulla banda ultralarga e quindi su tutto il problema della rete 5G, è l'autorità garante per le comunicazioni. Che è garante, ma ha un ruolo anche qui significativo di regolazione. E qua, scusate, volevo spacchettare quello che dice la legge, perché da lì capiamo poi davvero se si può parlare di indipendenza e se davvero viene rispettato nell'attuale sistema e assetto dei poteri quello che la legge dice affida alle autorità. Questa è la legge, ripeto, sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità, quindi la legge di riferimento, per capirci, di Arera. E qua sono snocciolati i compiti e le finalità che la legge affida a questa autorità. Promuovere la concorrenza e l'efficienza, promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi, assicurare fruibilità e diffusione in modo omogeneo sul territorio nazionale. Poi c'è il problema di cui parlava Alice, definendo un sistema tarifario certo, trasparente, basato su criteri predefiniti, però dice tenendo conto della materia comunitaria e soprattutto degli indirizzi di politica generale formulati dal governo. Sulla materia tarifaria c'è un richiamo che anche l'indagine parlamentare aveva sommessamente evidenziato e diceva che le autorità dipendenti sostanzialmente non sono libere nemmeno dalla determinazione tarifaria, ma devono seguire gli indirizzi di politica generale del governo. Mi sono permesso di aggiungere, la parte in blu ovviamente è mia, perché sarebbe difficile che il legislatore scrivesse così, ma quali sono gli indirizzi governativi, come vengono espressi gli indirizzi governativi, se ci sono in materia di determinazione della politica tarifaria. Due, altro aspetto che ho evidenziato criticamente rispetto all'elenco della legge, la legge dice che le funzioni debbano essere svolte, quelle che qui rapidamente abbiamo ripreso, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obblighi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di un'efficienza delle risorse. Quindi c'è un compito di cosiddetta armonizzazione, quindi chi dovrebbe bilanciare gli obblighi economico-finanziari che gravano i soggetti che erodano i servizi con gli obblighi sociali, chiamiamoli così, di carattere sociale, che tra l'altro vengono messi qui sullo stesso piano, è di nuovo rimesso all'autorità. Quindi è sostanzialmente un bel pacchetto di compiti e di funzioni, chiamiamole così, che vengono riunite sotto il cappello comune dell'attività di regolazione. E allora per rispondere alla domanda, visto che il tema di oggi è la legittimità o legittimazione diciamo democratica e la responsabilità politica, direi che per capire il primo polo dell'indipendenza, cioè quello rispetto al potere politico come si dice in gergo, Un primo indicatore comune che viene segnalato da sempre è il criterio delle nomine, quindi come vengono nominati i componenti delle autorità indipendenti. Allora ci sono sistemi molto anche qua diversi, ma c'è un tratto comune insomma, c'è un tratto comune che è o una nomina smaccatamente, dico perché tale è dal punto di vista anche giuridico, mediante atti politici, oppure una nomina mediante atti di alta amministrazione. Le categorie sono queste, adesso provo velocemente a chiarire. Vediamo l'esempio di Arera, come vengono nominati i componenti. Allora, anzitutto è organo collegiale, presidente quattro componenti, la nomina è un DPR, deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ovviamente è vincolante, quindi la nomina è atto dovuto, quindi atto solo formalmente presidenziale, proposta di ministri competenti e parere favorevole di almeno due terzi delle commissioni parlamentari che ovviamente sono competenti per materia. Poi tra l'altro c'è la durata che è anche particolarmente significativa, perché durano in carica sette anni come il Presidente della Repubblica, proprio per garantire continuità alla regolazione del settore, questa è la razio almeno che stava scritta nei disegni che hanno accompagnato l'approvazione della legge, eccetera, eccetera. Allora, vengo all'aspetto critico e concreto. Cosa dice la giurisprudenza sulle nomine? I casi che sono arrivati in contenzioso, quindi che hanno sollevato contenzioso risolto, quindi precedenti giurisprudenziali, sono pochissimi, guarda caso. La ragione è molto ovvia, perché è difficile sindacare un atto che o è politico, e quindi assolutamente insindacabile davanti al giudice amministrativo, oppure un atto di alta amministrazione e quindi anche qui i parametri per valutarne la legittimità sono molto ridotti e molto sfuggenti. Allora, la parte che ho messo in blu sopra dovrebbe essere significativa. Io la ricordo, pochissimi hanno colto quel passaggio dell'indagine conoscitiva della Camera dei Diputati, che fa sorridere, perché si dice che se bisogna, tantomeno nelle nomine, utilizzare dei criteri di selezione, di candidature, non dico concorsuali, ma mediante un bando e poi una valutazione comparativa dei curriculum, che è un modello tipico delle agenzie europee e via discorrendo. La documentazione che abbiamo in quella commissione della Camera dei Deputati dice che la soluzione è stata scartata e non è consigliabile perché la pubblicazione di bandi di selezione scoraggia le candidature forti, nel senso che qualora ci fossero candidature forti che poi non vengono scelte sostanzialmente, beh, questo ovviamente sarebbe un disincentivo a presentarsi per poter essere all'interno di un'autorità di regolazione. Questo cito testualmente l'indagine conoscitiva del 2012. Comunque la giurisprudenza dice che le nomine tendenzialmente governative, chiamiamole così lì, come quella in questione, sono atti di alta amministrazione, quindi sono teoricamente sindacabili dal giudice, ma ripeto, non essendoci un procedimento di selezione, non essendoci nessun criterio, se non quelli molto indefiniti della professionalità, sostanzialmente le nomine sono tecnicamente sindacabili. Quindi non sono atti politici formalmente, sostanzialmente hanno un contenuto politico, basta vedere il percorso, il procedimento che precede la designazione, la nomina, e quindi l'unico caso che abbiamo è quel tarlazio del 2012 che riguardava l'Agenzia Nazionale per i Servizi Postali, i cui compiti sono poi passati oggi, affidati all'autorità garanzia delle comunicazioni, di cui parlavo poco. Questo è l'elenco, su cui non vi voglio ammorbare perché lo conoscete meglio di me, delle competenze di Arera, che sono cresciute negli anni, è un elenco già solo che riempie la slide e ho dovuto utilizzare un carattere molto piccolo, io ho messo in verde quei compiti che sono sostanzialmente, alcuni dicono quasi normativi, di sicuro sono compiti che innovano e hanno una capacità di incidere sull'ordinamento, quindi noi giuristi tendiamo a dire che sono poteri normativi, che incidono a vario titolo sull'erogazione dei servizi e quindi incidono anche sul tema di cui parlavate poco fa, cioè incidono anche sulla consistenza dei diritti soggettivi degli utenti, quindi sui diritti fondamentali, se parliamo di servizio idrico per esempio. Propone, aggiorna il metodo tarifario, è sicuramente un potere di regolazione che è di tipo normativo, quasi normativo, definisce i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze, anche qua, e le modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento, nel gas, detta disposizione, qui più chiaro di così se non è normativo questo, detta disposizione in materia di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica, il settore idrico, servizio e telecalore, definisce i livelli minimi di qualità dei servizi, potrebbe andare avanti, insomma questi sono poteri di tipo normativo, che rientrano sempre nel cappello questa funzione di regolazione ampia, non definita in maniera univoca né dalla legge 481 né dalle varie leggi di settore che regolano le singole autorità indipendenti. Quindi qui ho provato a sintetizzare, io l'ho chiamato riserva di regolazione, cioè abbiamo una serie di ambiti che sono soggetti a riserva di regolazione, una volta noi parlavamo di riserva di legge, come ambito che si voleva che fosse disciplinato da una legge, oggi sono tantissimi gli ambiti in cui c'è riserva di regolazione, cioè la legge in maniera molto molto astratta e molto soprattutto generale, per non dire generica, attribuisce alle autorità indipendenti compiti che sono a esse esclusivamente affidati, riserva di regolazione con leggi che sono attributive di potere, quindi dicono l'autorità regola questo servizio e sono normativi, come abbiamo detto, di vigilanza, quasi giurisdizionali, sanzionatori, eccetera. La questione si è posta molto molto in evidenza dell'autorità nazionale di corruzione, quando si discuteva, ma questo probabilmente parlerà la collega Alessandra, quando si discuteva dei poteri di soft law, sì, ma prova a non rispettare una raccomandazione dell'ANAC, anche se non è norma prescrittiva, è norma vincolante, eccetera. Le sanzioni sono quelle che conosciamo, quindi la reazione sanzionatoria è molto aspra e sostanzialmente l'effetto è equivalente. Quindi un nuovo potere non costituzionalizzato, che ovviamente superando la classica ripartizione, separazione che conosciamo, riassume sotto un'unica funzione che tra l'altro è atipica, quella di regolazione, gli altri classici poteri. L'altro aspetto, qui accennava lì, è quello del finanziamento. Sul finanziamento ci sarebbe tanto da dire, ce ne sono due solo che si autofinanziano, almeno così risulterebbe, che sono l'ARERA e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private, l'ISVAS, che godono di piena autonomia finanziaria. Perché? Perché fanno fronte sostanzialmente alle spese di gestione e di funzionamento mediante i contributi che acquisiscono dal mercato regolamentato, quindi dal mercato di riferimento. Quindi qui c'è anche un problema di compatibilità tra le nostre norme interne e la tendenza che invece deriva dal diritto dell'Unione Europea, perché a livello comunitario, io qui ho messo l'esempio del Garante per la Protezione dei Dati Personali e della Rete Europea sulla protezione dei dati personali. L'idea è che ci sia bisogno che queste istituzioni per funzionare abbiano risorse sufficienti, risorse adeguate, eccetera, eccetera, e quindi possano anche incidere sul bilancio dello Stato. Anzi, in alcuni casi, dice l'Unione Europea, debbano perfino incidere sul bilancio dello Stato. Perché qual è l'altro rischio? Che se si finanziano solo mediante il contributo degli operatori di settore, il rischio della cattura del regolatore, quindi che ci siano dei condizionamenti tra il finanziato e il finanziante, mi sembrano abbastanza evidenti. Non ci vuole un fine giurista per ragionare su questi aspetti. Quindi, finanziamento degli operatori del settore, garanzia di indipendenza. Qui abbiamo il precedente, l'unico che è arrivato alla Corte Costituzionale, dell'autorità di regolazione dei trasporti, dell'ART, quella che ha sede in Torino, perché lì c'era appunto la questione che è stata sollevata dal Tar Piemonte sul fatto che le prestazioni patrimoniali che imponeva questa autorità erano sostanzialmente autodeterminate, cioè non avevano un fondamento legislativo. Siccome la Costituzione vuole che tutte le prestazioni patrimoniali siano fondate su una riserva di legge, quindi sia la legge che dice quando, come, in che misura, il fatto che lo decidesse da sola l'autorità di regolazione era una violazione della riserva di legge, quindi sarebbe stata sostanzialmente incostituzionale. Cosa dice la Corte Costituzionale con una sentenza, a mio avviso, sconcertante, non sono l'unico, ma purtroppo arriva dalla Corte Costituzionale, rigetta la questione di legittimità costituzionale dicendo che sostanzialmente la legge è soddisfatta, la riserva di legge, perché la legge che attribuiva quei poteri all'autorità di regolazione aveva già e conteneva in sé limiti, indirizzi, parametri, vincoli procedimentali complessivamente adeguati a arginarne la discrezionalità. Quindi, come scrivo qua in fondo, il problema è come arginare la discrezionalità, è quello il problema, cioè una discrezionalità che viene sostanzialmente lasciata quasi in bianco alle autorità e poi un sindacato eventuale se è stata utilizzata male. Quindi, quello che diceva Alice, la declinazione procedurale del principio di legalità, la tendenza pericolosissima è, guarda che basta che ci sia in qualche modo un procedimento strutturato che la legge riconosce da seguire alle autorità e quello soddisfa la legalità. Non so come dire, è un rispetto solo formale del principio di legalità e della riserva di legge. E quindi, con questo praticamente ho finito, proprio la funzione salvifica, io così mi sono permesso di chiamarla, di quella che molti miei colleghi chiamano l'arena regolatoria. Io ho appena scritto un articolo dove mi è stato censurato dai referì ciechi, quindi non so chi sono, che mi ero dimenticato di occuparmi dell'arena regolatoria, cioè di questa grande partecipazione nei processi decisionali delle autorities che sostanzialmente renderebbe legittime le loro scelte. Io qui, pur essendomi dimenticato dell'arena regolatoria, dico che sostanzialmente se voi leggete, questa è veramente la trasposizione, non c'è una mia parola se non l'evidenziazione in rosso, dal sito dell'arena i provvedimenti vengono adottati secondo procedure disciplinate da propri regolamenti interni, da regolamenti sul funzionamento generale e dalla pubblica amministrazione sulla base di criteri di efficacia e trasparenza. Ampio spazio viene dato alla consultazione con tutti i soggetti interessati attraverso la diffusione dei documenti, raccolta di osservazioni scritte, eventuali, tra l'altro, audizioni collettive e individuali. Questa è la legalità procedimentale. Quindi questa slide sostanzialmente riassume quello che ha detto la Corte Costituzionale sull'Art, cioè ci sta dicendo guarda che io la legalità la soddisfo comunque perché ho un procedimento che garantisce partecipazione, ho un procedimento trasparente e quindi io la legalità dal punto di vista procedimentale la rispetto e la soddisfo. Quindi, questa era l'ultimo, l'ho dimenticato, poi stoppatemi, sono a 18 minuti, quindi ho un eccesso di patos. Riserva tecnica di regolazione anche nella definizione delle condizioni di erogazione dei servizi, riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte che sostituita dall'illegalità procedimentale, sostituzione al circuito di legittimazione democratica e rischio di cattura del regolatore. Questi sono i punti che spero di aver evidenziato. Se sono poi imposte dall'Unione Europea, come si sente dire spesso, ma l'autorità è necessaria perché i compiti di regolazione devono essere svolti in base a direttive, a pacchetti di direttive sulle liberalizzazioni. Ci sono sempre, io lo ricordo, ma Alessandra sarà sicuro più precisa di me, ci sono sempre i controlimiti costituzionali. Quando vengono violati i nostri principi fondamentali, i poteri, ma anche sulla garanzia dei diritti fondamentali, mi sembra che ci sia un istituto che si chiama del controlimite costituzionale alla disciplina del diritto dell'Unione Europea. Due fonti che consiglio di consultare. Il primo è l'articolo sulla tariffa di Alice, il secondo è il mio ma non è ancora uscito ed è in corso di pubblicazione sul diritto amministrativo sui temi che vi ho appena detto. Grazie, scusate se ho sforato di qualche minuto. Grazie mille, professor Foix. Interessantissimo quanto ci è stato riportato. e in effetti noi abbiamo sperimentato come questa assenza di legittimità democratica si tenta di compensarla con questa finta partecipazione. Tant'è vero che a un certo punto abbiamo desistito al contribuire a quel processo di consultazione che poi ha portato alla predisposizione dei successivi metri da rifare dopo quello transitorio che abbiamo contestato anche a livello amministrativo con il ricorso. Proprio perché abbiamo compreso appieno che si trattava sostanzialmente di una vera e propria farza di uno specchietto per allodole per potersi ammantare appunto di una legittimità che in realtà non aveva. D'altra parte sembra abbastanza evidente che essendo anche storicamente state istituite autorità indipendenti come Rera e come quelle che lei ha citato proprio a presidiare il mercato e i valori del mercato quindi la libertà di iniziativa privata la concorrenza e la stabilità del sistema economico finanziario è evidente che diciamo la legittimità democratica l'assenza di legittimità democratica è insita anche nella loro costituzione proprio tant'è che rischiano di diventare proprio anche dei veicoli e anche questo noi abbiamo letto quasi letteralmente nella sentenza del Consiglio di Stato che riprende quella del Tar veicoli della teoria economica dominante e quindi rischiare anche di essere degli esecutori proprio di quelle che sono le dottrine del neoliberismo in questo caso.